Spoglia Galleri il regista ha annunciato, in maniera originale, la fine della relazione con Cristiane Oret, celebriamo i nostri 26 anni di matrimonio con un regalo, ci siamo felicemente separati. L'importanza di conservare un rapporto, accettandone il cambiamento, 26 marzo 2021 di Nicola Bambini anniversario, celebriamo i nostri 26 anni di matrimonio con un regalo. Ci siamo felicemente separati? A margine di una foto di coppia, Alessandro Dalatri annuncia così la fine della lunga relazione con Cristiane Oret, madre delle sue due figlie, Carolina e Federica. Un modo originale di comunicare il capolinea di una love story, ma che sottolinea l'importanza di allontanarsi con il sorriso, senza isterismi. Quegli isterismi che lo stesso Dalatri aveva perfettamente rappresentato nel Delizioso Casomai, con protagonisti Fabio Volo e Stefania Rocca, il paradosso di quel film. Che a volte è meglio dividersi, ha dichiarato anni fa. Certo, le situazioni sono differenti, ma quella frase può tornare utile. Capire quando fermarsi, evitare lo schianto, è la formula migliore per non corrodere lentamente un rapporto. Conservarlo, d'altronde, significa accettarne attivamente il cambiamento. Anche se la nostra relazione è finita, il legame resta e saremo per sempre una famiglia, ha detto in passato Gwyneth Paltrow. Parlando dell'ex marito Chris Martin Con il tempo siamo diventati ottimi amici, è come un fratello. E l'attrice americana e il frontman dei Coldplay, sposati dal 2003 al 2013, non sono certo un caso isolato. Tra le star mondiali basti pensare a Jennifer Lopez Mark Antony, Ben Affleck Jennifer Garner, oppure Sienna Miller Tom Sturridge Kate Hudson Matthew Bellamy. Prendere strade diverse senza rabbia si può, anche se inevitabilmente lascia qualche cicatrice, l'amore geniale, è il commento di Claudia Pandolfi al post di Dalatri. Siete i numeri uno, aggiunge Paolo Conticini, grande esempio e grande stima. L'amore nella separazione, quindi. Perché conservare un rapporto felice, a pensarci bene, è il regalo più bello che una coppia può farsi. L'amore nella separazione, quindi. L'amore nella dalla Grazie a tutti.